La nostra caratteristica è quella di premiare anche dei piccoli talenti, dei giovani e quindi che si distinguono perché l'anno scorso avevamo un ragazzino che suonava la fisarmonica in modo eccellente, quindi un dodicenne e quindi quest'anno avremo altri ragazzi che si affacciano ovviamente e quindi fanno vedere quelle che sono le loro peculiarità e si distinguono soprattutto, prendiamo ragazzini se vogliamo tra virgolette prodigio, restano tutti a far parte del nostro senato accademico e quindi ovviamente hanno tutti la possibilità di far parte non solo di questa famiglia ma anche segnalare delle personalità che a loro avviso si sono distinte per qualsiasi merito e quindi noi siamo molto attenti comunque anche al sociale, questo lo dobbiamo sempre sottolineare, è un'attenzione particolare soprattutto a chi ha bisogno e quindi tutto ciò che concerne le persone non ambienti, quindi questo a volte porta alla ribalta, sì è un premio di un'accademia, però porta alla ribalta quelle che sono le necessità a volte di persone che hanno bisogno. Far parte dell'accademia è come essere una famiglia, ci si trova ogni anno, ci si rivede volentieri e poi si conoscono delle persone anche importanti che nella vita hanno fatto qualcosa di buono, lo spirito nostro è quello. Il premio Cartagine rappresenta il fine di 42 anni di lavoro per la mia arma, i carabinieri e per le varie armi in cui ho lavorato, nella preparazione della protezione civile, nei cani da droga, da ricerca persone e tutto quanto possa servire nel comprendere questi animali. Grazie a tutti.